guarda questo posto dovevano viverci migliaia di persone di più decine di migliaia se forse che peccato chissà che cosa ne è stato di loro sono qui quando ti do il segnale torna indietro ok no 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 non posso fa come dico devo trovare un modo per distruggerlo non Grazie a tutti. 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 Quando io ti dico di fare qualcosa, tu devi farla immediatamente. Ok. Ho capito. Grazie a tutti. Andiamo. Ok. 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 Patente. Patente. Ok. 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 Robo! Shhh, non possiamo superarli senza farci notare. Io vado lì e li distraggo. Tu preparati a correre. Vai, vai, vai! Hey! Hey! Non siamo ancora al sicuro. Ecco l'uscita. Ma non riusciremo mai a superare la voragine. Siamo esposti. Stavolta li distraggo io. Forse possiamo creare un diversivo. Distrailo! D'accordo, capita. Via! Attento, l'energia si sta esaurendo. Ehi! 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 Andiamo! Arrivo! Ehi! 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 Non riesco a manomettere la porta! Non c'è riparo! Ok, lascia fare a me. Mi sbarazzo dei Robo. Ehi! Se ti serve, posso usare un diversivo. Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.